In Riva al Lago una sorpresa. Buongiorno, queste meraviglie parteciperanno ora a un tour attorno al Lago di Pomo. Partiamo da questa Aventador S Roster. Tutte le auto presenti sono dell'agenzia AF Luxury Rent milanese. I clienti sono danesi. Tutte le auto presenti del 7 supercar faranno l'intero tour del Lago passando per Villa Crespi e faranno in un totale di 250 chilometri. In piena libertà e in piena gioia. Voi siete una società di Milano, giusto? Esattamente. Che noleggia queste supercarie. Che noleggia queste bellezze. La particolarità della nostra agenzia è che determinati modelli sono molto rari e molto ricercati. Per esempio, davanti a noi abbiamo una bellissima Huracan Performante Spider, una delle prime consegnate in Italia. Noi possiamo già vedere il logo ALA che è una tecnologia solo della Lamborghini che permette un inserimento in curva per migliorare il flusso aerodinamico. Una vera chimica. Poi passiamo oltre una bellissima Ferrari California T. Un bellissimo modello che si contraddistingue per il led davanti. È circa 560 cavalli. Una vera goduria a cielo aperto. Passiamo a questa perla. Una McLaren 720S. 720 cavalli. Anche questa una delle prime consegnate in Italia. La particolarità di questa vettura è che ha l'intera scocca in fibra di carbonio e ha un assetto completamente race. Quindi incollata totalmente all'asfalto. Passiamo per questa Maserati MC Gran Cabrio. Una vera... Un vero evergreen. Vodibile al 100% in queste stupende strade del lago di Tomo. 460 cavalli. Un vuoto tutto italiano. McLaren 570 GT. Un'altra chicca. Con 570 cavalli. Veramente mostruosa. 0-100 in circa 3 secondi. E allora buon viaggio. Buon viaggio e buona continuazione. Grazie. È stato un piacere. Grazie, di nuovo. Arrivederci. Grazie.